Grazie a tutti Sono contento perché avevamo bisogno di questa vittoria, poi ho segnato io e quindi sono ancora più contento, però come ho detto anche prima, noi abbiamo bisogno dell'apporto di tutti e solo così si vince. Infatti ho detto che ci sono stati tanti giocatori, quasi tutti oggi hanno fatto una prestazione eccezionale e quindi solo così, poi dopo fortunatamente quest'anno mi sta capiranno spesso di segnare e sono contento, però l'importante era uscire da questa difficoltà che si era creata. Al di là della posizione in campo, questa squadra sta facendo sempre i conti con continui cambiamenti dovute agli infortuni, ma anche oggi la natura ha dovuto cambiare sia i giocatori che il modulo in corso. Questa sicuramente sta costituendo un limite per questa squadra, questa è la festa normale, la sindrome su questa non si è andata. Diciamo che ci sono stati dei momenti in cui magari qualche squalifica, qualche infortunio ed è normale una squadra comunque giovane che possa portare un po' di destabilizzazione, però noi abbiamo dimostrato che siamo questi e dobbiamo credere che siamo questa squadra ed è sempre la stessa, anche quando poi nel senso ci sono stati momenti difficili. Ed era la cosa importante dimostrare questo, cioè che non siamo né scarsi quando si perde né forti oggi che abbiamo vinto, insomma. Quindi credere nel nostro gruppo e unirsi ancora di più per cercare di fare questi risultati. Come mai secondo te questa squadra che all'inizio segnava molto, adesso sta incontrando qualche difficoltà, oggi sono arrivate anche le occasioni per poter segnare? No, ma noi, come ho detto prima, non dobbiamo perdere di vista qual è il nostro obiettivo, poi al di là se si segna poco, molto, la cosa importante è fare queste prestazioni con questa unità, poi il resto conta poco, anche perché tu mi insegni che appena uno perde arrivano tante critiche, vinci e va tutto bene, quindi la cosa importante è fare risultati, adesso è inutile contare tanti gol, poi gol, dobbiamo fare risultati e andare avanti per il nostro obiettivo e dobbiamo mettere in conto quando magari ci può stare qualche battuta d'arresto ed essere convinti invece che siamo una buona squadra e un buon gruppo anche quando si perde, insomma. Un campionato che si sta rivelando molto equilibrato sui strane del G1. Sì, lo sapevamo, insomma, che era un campionato molto difficile, ogni partita è una battaglia, anche oggi, insomma, loro un'ottima squadra, al centrocampo in su, insomma, giocano molto bene, però penso che oggi mi ha fatto un'ottima partita, sia in fase difensiva che anche offensiva, abbiamo avuto occasioni per raddoppiare, quindi, ripeto, insomma, la cosa importante era portare il risultato a casa, poi il resto conta niente, insomma. E cosa è stato vincente oggi? No, oggi, come ho detto prima, vincente è stato, intanto il risultato è stato vincente, poi il resto è quello che ci siamo detti in settimana, che questa squadra deve credere nelle proprie potenzialità e non deve abbattersi quando sono i momenti di scuola, perché noi, quello che dimostriamo in queste partite, siamo, quindi non dobbiamo rimoralizzarci, insomma, quando sono mi battuto al resto, di farci prendere da cose esterne. Noi siamo un gruppo che deve credere al nostro obiettivo e alle nostre capacità al basto. Mario, è Mario. Abbiamo notato, ci ha fatto piacere, l'abbraccio finale molto sentito all'insera. Spesso i calciatori trovano come abiti di allenatore quando le cose non vanno bene. Voi avete dimostrato che credete nel lavoro che fa l'allenatore? Io non l'abbraccio perché il mister è una persona che sta lavorando con noi da tanto tempo ed il gruppo, ti ripeto, questo è segno, è un gesto che siamo uniti. Al di là di quello che dicono esternamente tante persone, quando si perde è facile criticare. Però, ti ripeto, il fatto che noi siamo uniti, quella è una cosa che noi lo sappiamo. Quindi tutto il resto non conta niente, non ci interessa proprio. Onnesto. Sì, è stato un'altra settimana difficile anche aver costruito da poco tempo e dopo le tre partite, diciamo, che non si è unito. Se non le stai imparano anche Luca, sono anch'io. Ma cosa gli ha detto a fine capo? No, il mister ci ha fatto i complimenti perché poi, al di là di tutto, insomma, abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi il mister è un professionista e non c'era bisogno, insomma, che ci dicesse altre cose aggiuntive. Noi siamo qui a lavorare, il mister ha continuato a lavorare con la stessa tranquillità, la stessa serenità e quindi, ti ripeto, siamo un gruppo unito, quindi non c'è bisogno di dire o aggiungere altre cose in più. Va bene? Ricordo. Grazie.